Il 4 novembre L'unità dell'Italia come è oggi 899 Sedici anni avevano Sedici anni Che cosa rappresenta questa festa? Quando la mascola ci avevano detto tutto Tutto? Tutto Giordi Ma che vieni fuori su TV 2000 Dal Veneto venite, quindi proprio una giornata particolare poi oggi Vicenza, Vicenza, sì Teatro di guerra poi, il Veneto Eh sì I nostri monti Il fronte sui nostri monti Sì perché il mio bisnonna ha combattuto sul Grappa Sul Monte Grappa Quindi sì, è volontario, mutilato di guerra Quindi sì, c'è tutta un po' una storia di famiglia Una piccola mitologia di famiglia, certamente Le frecce tricolori La vittoria della prima guerra mondiale E quindi dovrebbero tutti saperla, anche i ragazzi Perché non è che venga menzionata molto questa festa In effetti hanno suonato l'hino del Piave Grazie